Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze, qui è Frank Rockstore Siamo tornati su FIFA 18 Oggi sono usciti i mondiali, infatti è il 29 maggio Abbiamo qua 5 pacchetti E prima il negozio non funzionava, ma adesso è cominciato a funzionare di nuovo Abbiamo alcuni pacchetti qua e poi passiamo sull'attima i team Quello vero e proprio, perché ci aspettano alcuni pacchetti decendi Noi andiamo subito con questi Questi sono i migliori pacchetti, perché sono tutti buoni, possiamo dire Germania, CoC, Osil Osil, 88 Qua si scula sempre Si scula sempre Adesso dovrebbe registrare la clip E lo portiamo alla nostra squadra E il bello è che alcune volte ci sono i pacchetti dentro No, alcune volte quasi sempre Che danno i pacchetti per portarli nell'attima i team normale Un'altra sculata Forse Potrebbe essere anche un 81 Uruguay, DC, Godin 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 Ma oggi quante cazzo di sculate stiamo facendo Oggi ho trovato anche Lewandowski nel pacchetto iniziale Close Close E molti altri come Rakitic, Pepe Questi qua andiamo al club Questo qua lo scartiamo pure Andiamo avanti Perché è un giocatore singolo È un giocatore solamente, ma va bene Infatti qui non c'è la sculata Possiamo anche schippare tranquillamente Che schifo Il 69 Andiamo con un altro pacchetto Andiamo Ok Dammi un Ronaldo Portogallo Ronaldo Svizzera TS E quello del Milan Non mi veniva il nome Scusate Tipo sui milanisti Poi l'angolano L'hanno fatto 81 Peccato Peccato davvero Perché è molto forte Ok Quindi adesso Possiamo passare direttamente Polo Marco Polo Abbiamo trovato Passiamo al nostro Ultimate Team Eccoci qua Adesso vado a confermare questa sfida Non faccio queste perché ci vorrà molto tempo Le faccio per conto mio poi Ok Confermiamo E mi dovrebbe dare il pacchetto giocatori rari Ok Eccolo qui 12 giocatori Tutti oro Tutti rari Abbiamo 6 pacchetti nel negozio Iniziamo con quelli più Più schifosi Ecco I pacchetti oro Andando ieri ho trovato Mertens Dots Ancora non ho avuto La possibilità di provarlo Ma a breve lo proverò Sarà sicuramente un devasto Perché io In co-op Con un amico gioco Con il belgio Mi trovo anche a Bennett È normale Uh Uno a Rosario Chissà chi sarà mai Mariano Eh buoni Questi qua mi servono Perché ci sono le sfide adesso Ok Adesso Passiamo un attimo A quelli più succulenti Andiamo con questo Giocatori misti Capirai Uno raro Che cos'era Quella luce Boh Va bene La merda Della merda Stuani Eh Vabbè Scatta tutti Andiamo di pacchetto Orari E almeno una bandierina Ma la devi dare Grazie Ok Vediamo chi è Francia DC Eh Coscelli Buono Buono 84 Serve per la sfida Anche Cole Mantiermans Ok Questi qua Li conserviamo E adesso Si sta avvicinando Sempre di più Al pacchetto Giocatori rai E spero di trovare Almeno almeno Qualcuno Vabbè Qui schippiamo Che pacchetto Oro primo maxi Non si trova mai Un cazzo Ecco Almeno almeno Li conservo questi Che mi servono Mi sono rifatto Quasi i credit Ok Favore FIFA Fammi scolare Ah merda Ronaldo Italia ATT No No Balotelli Che mi hanno Gli assegnato Mi fido di lui Sapete che vi dico Adesso faccio i pacchetti Toz garantito Forse quello della Serie A Ci vediamo tra poco Perché ho trovato Un mare di 82 Ok Ecco fatto Dato Ilicic Che avevo trovato L'ultima volta Nella sfida Sempre della Serie A Possiamo andare Giocatore Squadra Dell'anno Tox Team of the season Argentino Un argentino Dai Spagna Che cazzo c'era Ah Buono Luisa Alberto Buonissimo Perfetto Mi serviva Sempre Allora Sembra un 91 Però Ilicic Non dava Cioè Non era così Tanto forte Lui Un po' di più Anche se hanno lo stesso Over Le valutazioni Bene Per questo video è tutto Ci vediamo Alla prossima Iscrivetevi anche Di nuovo Qui cazzo Sì